Fino a un mese fa eri un fallito totale. Ma chissà come sei diventato la più grande star del mondo. Allora che è successo? Com'è possibile che sia l'unico al mondo a ricordare i Beatles? E ora che faccio con questo segreto? Ho un mucchio di canzoni nuove, magari la gente vuole ascoltarle. La tua musica è incredibile. Avrei un suggerimento. Titolo della canzone. Hey, Dude. Yesterday. Al cinema. Allora.